Tu sei per me la storia che il filo d'erba dice alla rucciata Se il viaggio della nuvola che il vento va prima che vi chacata Se il sogno che non finirà Io avevo una collezione di musica di musica di musica E' una musica molto hermosa E' una musica con una cliente che mi niente Per esempio quando siamo a la playa Mi mamma agrava a Nerva Bayanin Era un polvo raguette E' una opera era un'ora in Africa molto bella, in tutto la nuova si poteva di sol e sai che, sai che io mi ero cantando con la signora che stava cantando nel cassetto io ho ho con lì, io ho conosciato che aveva 6-7 anni meno, a lo mejor e sempre mi cantò su musica, io con sé, lo cantava, perché mi ricordo è che la politica era una cosa molto importante, era un'ora cese che perché ti va a fare l'asodo, tutto questo non è stato salito, non è stato un'ora, quindi io credo che era una buona receta quando mi sento in un'ora cese a me meto a fare una preguntata che tiene un'ora bocina o un'ora un'ora, è una cosa che miroca, si non lo faci, è una cosa che miroca Lo che passa è che io stuvo enferma di cáncer, che ha fatto con lo che mi ha detto che ho fatto per 5 anni. Io stavo lavorando con il Estrador di Jalisco, che mi ha detto 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 che mi ha detto. Non funzionato, non funzionato, non funzionato, non funzionato. Il experts ha detto che mi 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 ha fatto 5 anni e quel il primo è noi mi mi ha detto che mi viene da parte Adesso mi sono capitella, quando ci sono una saluzione, e io direi che io ho guarda, ti abbia messo e riporto, e ne riporto di nada, non riporto. Io sono capitella, e non sono nasc soon, non riporto. E nel mio viajo a Giusto, la persona che è la mia, questa, bellissima, Catania Maria Vicova, è difficile da una банche federal. il miembro dell'Inclusione mi consulta e mi dice cosa vuoi fare? e mi dice 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 ilse e mi dice e mi dice e lui dice sì, io la recibo e la escucho e la escucho la recibiò e in questo momento era una reica completa io non l'hova per una beca, io l'hova per un altro video e mi pensavo era una reica completa e così la possibilità di venire in la sessione e, bueno assumendo molto venire in Estados Unidos la ultima recaida al 100 anni la feccia del Saúl e poi la scuola e poi la scuola la scuola e poi e poi la scuola e poi la scuola la scuola e poi la scuola e poi la scuola e poi la scuola la scuola e poi la scuola e poi la scuola e poi e poi la scuola la scuola e poi la scuola e poi la scuola e poi e poi e poi e poi la scuola la scuola e poi la scuola e poi la scuola e poi e poi la scuola e poi la scuola e poi e poi la scuola e poi la scuola e poi e poi la scuola e poi la scuola e poi e poi e poi la scuola e poi e poi e poi i i i i i i i la mia mamma, però quello che las conto osea, tu hai tu hai una storia d'uncita tu hai una storia tu hai un talento serio una famiglia che si apoya incondicionalmente lo que tu hai tu hai tu hai una storia d'uncita e io che mi sento così per lì di un esquemato così come un pollito chiquitito una mamma, come un altro io ho sento mi sento sicuro non leggerlo e io mi sento sicuro responsabile e entones ho程 a fin di e che mi sento sicuro a tol' l'officio io mi conto e in questo l'abuse mi conto che aveva accanto per avere ambizioni seguito e io ho anche, ho parlato adesso oggi e tutti ricordati che la voce, come se stanno con questa che vanno a ricevere? come se stanno con questa che vanno a cercare? si stanno con mille persone a queste condizioni no? Ma diceva che vogliono fare il fatto, così non era la porta ho cerrato il sabano E dice che è arrivato di sì E quindi mi ricca mi ha detto che mi ha detto che sì E poi passi alla fine ronda e alla fine ronda e alla fine ronda e in seguito, questo fu una delle esperienze più incredibili della mia vita. Credo che ho avuto un'altra cosa, con un'altra exposizione, e tutte le esperienze che hanno venuto a vedere. E' una visione tradizionale. Questa è una visione tradizionale, che ha avuto un materiale molto specifico. è un disco che ha un discone che si chiama opera che si chiama opera, ma si le dice, è un disco che si chiama opera, ma in realtà è il disco che combina la musica clasica, è tanto per il disco con il disco con il disco culturale, cancioni non è una opera, non è una opera completa, non è parte di una opera, di una opera più larga, di una opera più grande, sono cancioni arrelate e cantate in una forma più clasica, è una funzione di un mondo incredibile. Ese gènero a mi mi permette di generare una intimità molto speciale con la gente. Ese gènero io non c'è nessun personaggio, io sono io. Ese gènero io non c'è nessun personaggio, io sono io. Ese gènero mi permette di generare una cancione, e ademasi non c'è nessun personaggio. Ese gènero è un gènero. Ese gènero è un gènero, il disco che stiamo già promocionando. Il disco che stiamo già promocionando, il disco che si chiede, il disco che stiamo già promocionando. Io ho chiedendo una cancione che stiamo dal cancione, in fondo con la violenza. l'uomo ho chiede le da le tieni con il disco. Ese gènero è un gènero. Ese gènero è un gènero che stiamo thamogionando, in fondo, in fondo, io non c'è nessun personaggio. Il disco che stiamo quando sono riusse. E così stiamo prima? No, non c'è nessun personaggio che in seguito? Ese gènero è che stiamo suonione questa. è una canzone che mi piace molto, e spero che non mi piace, è la vendita e la distribuzione di tutti i giorni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.